Le release note sono un documento importante per i nostri utenti finali, ma spesso manca la disciplina o mancano i processi o gli strumenti per generarle come si deve in maniera facile e veloce. Ciao, io sono Michele e abilito i team di sviluppo a fare di più lavorando di meno. Ti do subito un esempio e applichiamo l'artificial intelligence per sistemare una volta per tutte il problema delle release note. Iniziamo subito! Allora, per non perderci in chiacchiere andiamo subito al sodo, ho qui davanti una board di Azure DevOps con dentro due work item pronti sviluppati in attesa di essere rilasciati con l'ultima nuova release fiammante dell'applicazione che abbiamo sviluppato. Ho una user story qui, l'andiamo ad aprire, vediamo che c'è un titolo, una descrizione e andiamo a vedere per esempio che c'è uno screenshot appunto rappresentato da una fragola. Dall'altra parte abbiamo quest'altra user story, as a marketeer, I want to run test, eccetera, e abbiamo uno screenshot di un ananas. Allora faccio partire subito l'automazione che ho qui in uno script PowerShell. Andiamo, faccio F5 e poi lo commentiamo. Vediamo che lo script sta andando a recuperare i work item che ci sono nella board in stato pronto. e poi vengono passati a motore LLM, in questo caso mi sono collegato a OpenAI e abbiamo qui in output, pronto si è creato mentre stavamo parlando, questo documento release note.md. Posso fare subito l'anteprima con Visual Studio Code e vediamo che abbiamo queste release note. Siamo in, ingrandisco un po', E vediamo release note. Siamo entusiasti di annunciare un rilascio importante che introduce nuove funzionalità, eccetera. Novità principali, queste sono pensate, vediamo come c'è il contesto. Queste novità sono pensate per aiutare in marketing e in developer a sfruttare al massimo le tecnologie avanzate offerte da Azure. Continuate a leggere per scoprire le nuove funzionalità e come possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Vediamo poi come l'artificial intelligence abbia appunto usato un certo tipo di tono, andiamo a vedere il prompt che ha utilizzato. Riassume con le novità principali e poi c'è un'altra sezione del documento con le feature dettagliate. As marketeer vediamo il titolo, i want to run e i b test. Vediamo l'immagine presa di prima, vediamo la descrizione che ovviamente l'LLM, in questo caso ho usato chat CPT 4O, andato a fare, a descrivere, a dare la sua interpretazione. Quindi questa funzionalità permette ai marketeer di eseguire test B, eccetera. Poi vediamo che ha composto correttamente con la seconda, il secondo work item, con il suo titolo, la sua immagine. Qua ho dovuto fare un po' di scripting ma me la sono cavata. Abbiamo di nuovo la descrizione e alla fine abbiamo un incitamento a provare un ringraziamento da parte del team di sviluppo. Ecco possiamo tranquillamente immaginare di mettere questo scripting, l'ho realizzato con uno script PowerShell che vediamo qua. lo possiamo inserire in una Azure Pipeline che possiamo fare scatenare quando vogliamo, quindi per esempio alla creazione di un branch chiamato release, o nei momenti, o perché no, a mano, nei momenti che riteniamo più opportuni a seconda del processo di deployment e quanto automatizzati siamo nel nostro team di sviluppo. Andiamo a commentare rapidamente i blocchi di codice. Questo script è grezzo, non è completamente rifinito, ci sono delle magic string, insomma si può fare di meglio, però come spunto l'ho preso e l'ho pubblicato su GitHub all'indirizzo che ho messo in descrizione. Ok, andiamo a vedere, lo commentiamo e facciamo passo passo per capire un po' qual è la struttura. La cosa che viene fatta all'inizio è di impostare una cartella dove vengono scaricati gli allegati, tipo le immagini dei work item che appunto poi sono stati presi e scaricati e messi come link nel markdown appunto. Poi faccio un po', vabbè, mi preparo il personal access token per Azure DevOps che deve essere convertito in base64. Per sganciare un token su Azure DevOps basta andare nel proprio profilo e creare un personal access token. Bastano semplicemente i diritti di lettura dei work item, quindi anche per messi molto contenuti. Preparo una query in sintassi WIQL, che è la sintassi diciamo tipo SQL di Azure DevOps per poter fare le query sui work item, e poi vado a scatenare questa query utilizzando l'API di Azure DevOps. Preparo un array che contiene tutti i dettagli dei work item, perché questa response mi contiene sostanzialmente solo gli ID. Per avere tutti i dettagli dei work item devo andare ad utilizzare le API che mi recuperano in dettagli completi. Faccio quindi la chiamata all'interno di un ciclo e vado a costruire un oggetto custom che poi converto in JSON, che ha dentro l'ID, il titolo, la descrizione e un campo chiamato release note all'interno, che poi ho appunto convertito in JSON, servirà per dare al chat GPT un'indicazione per capire meglio quali sono le informazioni che può usare per fare appunto per dedurre le sue release note. Nulla mi vieta che se all'interno del mio Azure DevOps l'ho personalizzato e ho fatto dei campi appositi per le release note, qui ci metto campo release note e allora darò che magari delle persone dei PM, dei PO, dei developer hanno magari cura di compilare durante o alla fine dello sviluppo, ecco che qui vado a dare ulteriormente del valore aggiunto che chat GPT può utilizzare. Tutto quello che ho raccolto l'ho converto in un JSON, lo salvo in questo caso per motivi di debug o per andarlo a consultare e così via e dopodiché ho creato questa funzione, non rispetta appunto come ho detto i nomi, le best practice di PowerShell, è grezzo buttato lì, l'ho chiamato ask summary dove appunto vado, gli passo il mio token di OpenAPI e il contenuto in JSON. vado a vedere qui dentro che un pochino la ricetta potrebbe, in questo caso, è quello di fare un prompt fatto un pochino curato, quindi io gli dico crea un documento in formato markdown di release note per i work item che ti passo alla fine di questo prompt. Non inserire nomi di chi ha fatto cosa perché magari mi sbaglio, tiro dentro il campo, assigned to, quindi così sono sicuro che non vengono fuori i nomi delle persone. Spiega bene perché ti stai rivolgendo agli utenti finali, quindi non c'è un pubblico tecnico. Il documento deve contenere un riassunto generale, abbiamo visto quello che ha fatto all'inizio, su cosa sono le novità. Poi deve contenere una sezione dove compare ogni work item come sottotitolo con la sua descrizione. Infine fai una sezione finale che incoraggia gli utenti a provare le novità fatte con amore. Infine ecco i work item e ci agganciamo il contenuto in formato JSON. Poi nel body del messaggio HTTP per la chiamata a OpenAPI vado a scegliere il modello, ci scrivo GPT4O, in questo caso io ho una subscription a pagamento, e poi vado a dire, sempre seguendo la documentazione di OpenAI, vado a comporre quello che è il messaggio con la sezione messages, istruisco il suo ruolo, il sistema si presenta dicendo sono un bot che può aiutarti a fare i riassunti dei work item di Azure DevOps, e poi il prompt dell'utente appena generato qua sopra. Chiamo l'API di chat completion e ora della fine scrivo done. Torniamo quindi giù, una volta che ho ottenuto la response dal chat GPT vado a fare un po' di maneggiamenti, quindi la response la vado a scrivere nel file di test release note.md, scarico le immagini, vi risparmio l'API di download, il replace degli url, ma sostanzialmente vado a scaricare le immagini, poi faccio il replace all'interno del file markdown per avere gli indirizzi locali e non più gli indirizzi online, delle immagini online negli storage di Azure, perché ovviamente le immagini originariamente sono là. E poi alla fine ho messo uno start per avviare subito il documento senza doverci cliccare io. A questo punto la fase successiva potrebbe essere quella di rimaneggiare leggermente questo script e metterlo in una pipeline che poi carica come esito, come artefatto della pipeline stessa il file in formato markdown, ma lascio a te questo esercizio appunto per casa e prova a metterlo in una Azure pipeline, magari io lo farò in un prossimo video. Bene, per quanto riguarda l'artificial intelligence applicata alle release note in Azure DevOps, ci fermiamo qui. Questo è il mio indirizzo email se mi vuoi contattare per una consulenza. Io ti saluto e se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto, mi raccomando, metti un mi piace e iscriviti al canale come sarai notificato sulle prossime uscite. Ciao!